Ma che mondo triste oggi Fere, cioè sinceramente, questo posto tutto così flat, non si vede un'anima viva Cioè è un villaggio totalmente in mezzo al nulla, proprio letteralmente Letteralmente in mezzo al nulla Fere, letteralmente in mezzo al nulla Allora vedo un pochettino i villager, mi sembra un villaggio normalissimo Eh sì Francamente proprio nulla di strano, nulla di particolare Anche le case io sinceramente le sto sbirciando, non mi sembra ci sia niente troppo particolare Però l'assistente segreto mi ha detto, beh vieni qua, numero due, assistente segreto numero due Ogni volta devo specificare perché poi mi dimentico Io ho detto, vieni qua, c'è una roba abbastanza interessante E ho fatto, ok E noi siamo venuti qua E noi siamo venuti qua E c'è questo tizio Che è l'unico diverso, è uno Steve, credo Quindi sarà lui che magari avrà qualcosa da dirci Salve, siete voi i Ciprierson Console? No Sì, salve, siamo noi Fere dice no, ma sì lo siamo C'è stato riferito che voi siete le persone più coraggiosi del mondo Allora No, Steph, poi soprattutto Non scherziamo qui, cos'era? Questa è arrivata il momento in cui dobbiamo ridere Questa è coraggiosa Solo quando ci sono dolci o soldi Io sono la persona peggiore Abbiamo scoperto un modo per andare nel futuro Ma nessuno ha il coraggio Ci potreste andare voi Assistente numero due, ti odiamo Beh, penso che sia la risposta più giusta Ok, io ce ne andiamo Ciao Ciao, è stato bello, è stato un piacere Ragiona Fere Allora, non so se mi piace il futuro Ok Ok Detto Finito 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 così Mi sono facendo un discorso lungo È come magari vai lì, Steph Tipo, cosa ne so È in corso una guerra Arrivi là, esplodi Che ne sai No, certo Può succedere questo Di cosa Però, teoricamente Ci sono armi migliori Futuristiche Più potenti Non è vero Stai prendendo in giro Stai cercando di attirarmi Per fare una fesseria E andare lì Io dico teoricamente Con quel tizio strano, Steph Ma tu ti devi fidare di uno Che ha gli occhi arancioni Stai chi è che nel mondo Ma Fere Se tu pensi ai libri di storia L'unica cosa che ha fatto sempre l'uomo È migliorare le armi della guerra Non miglioravano come persone Ma le armi le miglioravano sempre Quindi, teoricamente Se andiamo avanti nel tempo È sempre stato un disastro, Steph Eh, ma a te piacciono le armi A me no Quindi magari Non funziona Prova a riparlarci, vai Perché ce l'ho di parlare? Perché dobbiamo andare avanti Va bene, ci andremo noi Grazie mille Dovrete entrare nel pozzo Tu sapevi già come si andava nel futuro, scusa Boh Stavo aspettando la spiegazione Era davanti al pozzo magico Ma che pozzo magico Sì, sembra un pozzo magico Esprimi un desiderio, Fere Buttati, Steph Allora, vai e dimmi com'è E poi nel caso ti raggiungo Se no, rimango qua Vai Ma dai Non volevo venire, ok? Non volevo Perché? È pure caduta Ok, Steph Ah, poverina Allora Direi che il villaggio È decisamente cambiato Allora La costante rispetto al passato È che siamo sempre in mezzo al nulla Però magari per farci sentire Come se fossimo a casa, no? Capisci? Ok Allora I villager si fanno i bagni nell'acqua I villager sono sempre gli stessi Coltivano, continuano a vivere allo stesso modo Però in linea generale Il villaggio mi sembra molto più carino O no? Sì Cioè, mi sembra tutto molto più bellino Si sono evoluti con i materiali Guarda Guarda, guarda, qua hanno anche la cucina Addirittura I villaggi vecchi Proprio col cavolo Dimmi, cara C'è una torta in forno Rubiamo Ruba tutto Ruba tutto Non ci riesco Eh, sei scarso Forse non sappiamo le tecniche di rubamento Del futuro Del futuro E nel frigo non c'è nulla, no? Peccato Non c'è nulla da nessuna parte Accidenti Tieni, Ferio, ho trovato questo Cosa? Uh, bello, grazie Prego Il combatto Allevamento di cani Cosa? Ok Salve Non trovo il bottone per entrare, ecco Salve, vorresti adottare un cane? Sì, volentieri Io faccio le mappe Forse avete sbagliato il posto Avevi un aspetto famiglia in effetti Ma perché allora Che burlone Perché l'ha già chiesto Ah, ciao Lo posso uccidere, Steph Lo posso uccidere Ma no, però ci sono i cani, davvero Per questa battuta se lo merita Ma però ci sono i cani qua Ah, poi è anche un cane nella felpa Forse era per questo Ma vanno da lui Lo amano, Steph Ha notato Ma proprio si è fiondato Come se non ci fossero È davvero un allevamento di cani Quindi l'assistente segreto numero due Quando non prepara le mappe per noi Alleva i cani Alleva i cani Sì Va bene Ok Oh, magari una Qualche informazione in più Magari una persona piena di cani Cosa ne sai? Di quelli che hanno 50 cani? O tipo 10? Dai Che tipo li comanda? Bella Eh, che li addestra Gli sa fare i cerchi della morte Ma che cerchi della morte? Uh, salve Cerchi infuocati, Steph Aspetta, qua c'è un negozio Uh Tipo di roba Vedi? Guarda che bellina questa Col joystick È vero E qua c'è un tizio Salve, cosa vorresti acquistare? Salve, un chilogrammo di mele Momento peggiore Mi sono appena sotto e rubate tutte le mele Non è che potreste aiutarmi a ritravarle? Eh Perché in ogni posto in cui andiamo Certo Abbiamo da fare, Steph Grazie Trintron Ora mi è appena arrivato un messaggio Un messaggio non in mollette Stupide mele si trovano in un edificio Non troppo grande Ah Ok, andiamo a controllare Ok Andiamo a cercare le sue maledette mele Allora Si trovano in un edificio Non troppo grande Allora A parte che Scusami un attimo Fere Posso togliermi un dubbio? Eh Perché c'è Baldi? Chi? Baldi Cioè qua ci fa Tu confusa, Steph Non lo so 5x5 No, non iniziare Baldi Dobbiamo trovare le mele per ora Qua c'è una batteria Ok Vuole qualcosa Baldi Un pianoforte Delle mele no? No Niente mele Vabbè ma questo edificio è abbastanza grande Esatto Secondo me uno abbastanza piccolo È questo qua Ok, aspettami, aspettami, aspettami Non voglio stare con Baldi, Steph Aiuto Vieni a controllare L'ho trovato? Secondo me Eh, infatti anche io puntavo Sì, sì, sì Trovato, trovato Vieni Aspetta Ecco qua Ecco qua Ecco qua Io rivedo a parlare con Baldi Vediamo che vuole Basta, non ci seguo più Allora, mi chiedeva 5x5 Giusto, signor Baldi? Ci pensi tu? Io cerco le mele 5x5 Quanto fa 43x21, Steph? Vado a casaccio Ho sbagliato Fere Ho trovato Una jacuzzi in un tetto Allora, dai Non è neanche questo Dove cavolo è le mele? Su Edificio piccolo Anche questo è un edificio piccolo Niente Ora, Baldi importuna e basta Sì? Sì Sicura? Continua all'infinito a farti domande Quando indovini E se sbagli ti dice Ho sbagliato Trovate Dove sei? Una Due Ti ho perso, Steph C'era una porta nascosta C'è una secret door E c'erano le mele all'interno Quindi ce l'ho fatta Ah, maledetti Allora, dove era però il tipo adesso? Qua 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 Perché se ricordo bene Se noi gli diamo queste Lui ci dà le mele, tipo Vediamo Sì Devi finire di parlarci Tutto a posto Ho 32 mele Grazie Non me ne facevo nulla Ma grazie Ma anche io, infatti Non so perché abbiamo aiutato Mi aspettavo un po' di cibo futuristico Non delle mele classiche Ma vabbè Perché se noi le mele Signor Baldi Allora Stava importunando affaire Vediamo che cavolo vuole 5 per 5 Vabbè, 25 43 per 21 È la prima, Steph Gli hai fatto tutto a caso? Sì E l'ho indovinata Ok Poi la seconda E poi? Ho fatto a caso E non mi ricordo cosa è successo Forse l'ho anche indovinata Vabbè, come fai? Vabbè, questo è impossibile Calcolatrice Ok, vai Ti sembra, Steph? Ma perché dobbiamo sempre perdere tempo con Baldi? Perché abbiamo fatto di male Ma non lo so Cioè, che senso ha? Non lo so Dov'è la calcolatrice in questo telefono? Ti prego Ti giuro Nella C È sempre in ordine alfabetico Ah, hai ragione Davvero Certo che il menu è in ordine alfabetico, Steph È così in tutti i telefoni Amano che tu non lo cambi Non lo sapevo Allora 342 per 875 Fa 299 250 Ok Fai, andiamocene Esatto Andiamo via Perfetto Lasciamolo stare Che ha importunare gli altri Basta Baldi Hai rotto le scatole Non ti vuole più vedere nessuno Sinceramente Cioè E basta Io ho perso tempo Di pensare alle risposte Per poi Vabbè Vabbè Lasciamo perdere Allora Cos'altro ci manca da visitare In questo bel villaggio Non so Mi sa che qualche altra costruzione Non l'abbiamo ancora vista Eh no Tipo questa qua Buongiorno Salve Beh, bella Nessuno Beh, Fari Sai che cos'è questo? Questo è un tavolo futuristico Sì Dove praticamente Guarda Pronta Tu metti il cibo qua Ok È galleggia È galleggia Ah, bello, sì Aspetta Ecco Ecco Visto? Bello, sì Bellissimo Futuro Questo è il futuro Mi ricorda qualcosa E chissà che cosa Vabbè Eh, questa casa qui l'abbiamo visitata Non credo Vuota Davvero In fase di costruzione Non è che c'è qualche passaggio segreto No, non sembra Ok Arrivo C'è qualcos'altro? Qui c'è un sacco di bottiglie, Steph Tipo? Bottiglie È un posto un posto aspetto, vero? C'è bisogno di romperle Eh, partiamo a casa un po', no? Come souvenir Magari Eh, dobbiamo tornare indietro Almeno possiamo tornare a casa Offriamo le bottiglie a tutti i villager Mi sembra una cosa buona Poi qua Non c'è nulla Ok Vedi, qua erano le mele Eh sì, l'ho visto, l'ho visto Prima sono andata Eh, non lo sapevo se l'hai visto Eh, che altro manca? Mi sa che c'era un altro qua No, questo l'abbiamo fatto Sul tetto Tanto Non ci interessa del futuro Quindi sinceramente ci prendiamo anche un po' di roba da mangiare qua Perché secondo me è importante Allora, Steph, aspetta Torna a comprarmi qualche maglietta A rubare qualche maglietta E dai, scusa Tu stai sgobando tutto E mi sembra un po' eccessivo però Perché? Mi piacevano E mi sembra un po' Vabbè Vai Vai, Fer Quella col joystick Ok Vai Andiamo via Tutto al rack mi son preso Ho notato Eh, oh Ok Quale cose si fanno bene? Un attimo, due anguria Una E due Grazie Oh, sono tutti i souvenir, Steph Lo so, lo so Aspetta, allora va bene Opla Ma Ma Oh Ok Perfetto Dove siamo? Credo che siamo tornati nel presente, no? Sì Cioè Suppongo di sì Suppongo Salve Salve Siete un po' strani Addio Quanti sono? Due o tre? Può essere tre Ok, quindi ci abbiamo fatta? Eh, penso di sì Allora, a sto punto È stato un po' ambiguo come viaggio, Steph Mi aspettavo qualcosa di spettacolare Invece è stato un po' strano Vabbè, come sempre c'è Baldi Però guarda Bello, Steph Guarda qui Porca miseria La mia maglietta preferita Adesso Con tutto lo scappato No, no, mi scusi, mi scusi No, se ne deve andare Per favore No, non ti arrabbiare Ma non è casa tua No, no, lo stavo ammazzare Non è che si arrabbi È casa nostra Non c'era bisogno Poi ci ruba tutto Poteva accompagnarlo Gentilmente Poteva dire a tutti gli altri Che abbiamo viaggiato nel tempo Lo meriti Nessuno lo deve sapere Perché? Boh Così A caso Nei film fanno così Quindi lo facciamo anche noi Ok In ogni caso Ci fermiamo così Abbiamo viaggiato nel futuro Abbiamo visto un villaggio Dove c'è Baldi a rompere le scatole Quindi sappiamo che anche nel futuro Baldi ci sarà Il che non è una bella cosa Secondo me Avete scoperto la quarta lettera Del nostro assistente segreto Numero due Io vorrei iniziare a vedere qualcuno Che o ci si avvicina tanto O a zecca Il suo nome In ogni caso Ci fermiamo così Come sempre qua sotto Comprando altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao